Ma... ma non mi dobbiamo andare a noi stessi, eh? Di dove cazzo sei? Di dove sei? Non chiesto, eh? Di dove sei? Mi devi dire, di dove sei? Computer, dimmelo tu! La ragazza è di Barrali! La ragazza è di Barrali! Tocca la davarra e stai, eh? È di Barrali! La ragazza è di Barrali!